Ora si registrerà la conferenza. Ecco, ho sentito una voce automatica, l'avete sentita anche voi, da questo momento l'incontro è registrato per cui lo utilizzeremo, quello che diremo, per condivisioni future, in modo tale che chi non ha potuto partecipare oggi a questa conferenza lo potrà fare in forma differita in futuro. Quindi, appunto, ribadisco l'invito a tutti quanti di mettere su muto il microfono e anche la videocamera, in modo tale da lasciare l'audio il più pulito possibile per i nostri relatori. Dicevo buonasera, benvenuti a tutti, io sono Davide Rossi e sono l'addetto comunicazione del servizio promozione del Mombiso e a me è stato affidato il compito di introdurvi in questo primo incontro di un ciclo di tre che abbiamo intitolato Intorno al Mombiso. Un ciclo di tre incontri che abbiamo voluto organizzare per celebrare, festeggiare anche noi la giornata europea dei parchi che si è tenuta in effetti domenica 24 maggio, in ricordo appunto dell'apertura del primo parco in Europa, avvenuta in Svezia nel 1909. Da qualche anno quel giorno è un giorno in cui tutti i parchi d'Europa si raccolgono idealmente per festeggiare e per sensibilizzare sul discorso relativo alla natura, alla natura protetta, alla conservazione della biodiversità. Non potevamo ovviamente fare degli incontri fisici per le ovvie ragioni che tutti quanti voi conoscete e di cui oggi non parleremo per cercare di pensare un pochettino ad altro e allora abbiamo organizzato un ciclo di tre webinar. Il primo è quello di oggi di cui ancora non parlo perché invece per un saluto ufficiale chiederei l'intervento del presidente del parco del Mombiso, Gianfranco Marengo, che dovrebbe essere all'ascolto e al quale cedo la parola. Grazie Davide, grazie a tutti, ma io non rubo davvero molto tempo se non per i saluti, saluto ai relatori, a Linda, sperando di rivederla in montagna e non soltanto sul PC. Anche noi sperimentiamo la prima volta questa modalità che potrà anche forse essere un risorso per il futuro. Il Mombiso è donna, è donna dal 64, quando Francesco Borelli salì sul nostro ore di pietra. Lascio a Linda raccontarci questa avventura che iniziamo a celebrare nel 2014, proprio nel ricordo di questa donna che per prima salì sulla vetta del nostro ore di pietra, ma ascolteremo da Linda tutti i dettagli e le curiosità. Grazie a tutti, un saluto e ci risentiamo alla fine per le domande. Davide, a lei. Grazie mille signor Presidente, lei ha già introdotto naturalmente l'argomento e allora a questo punto è doveroso presentare la nostra relatrice principale, la nostra protagonista di questa sera, che è Linda Cottino, che è una giornalista appassionata di montagna che è riuscita a fare quello che tutti quanti noi sogniamo, cioè unire, trasformare la propria passione nel proprio lavoro, in un certo senso, perlomeno unire la passione al lavoro. E di fatto Linda è una giornalista specializzata in montagna, diretta per sette anni, se non ricordo male, la rivista Alp, che continua a collaborare con testati importanti, nazionali e internazionali, nell'ambito della comunicazione giornalistica declinata sulla montagna. Buonasera Linda. Buonasera Davide e buonasera a tutti. Naturalmente grazie mille per questo invito e grazie al Presidente e a tutti voi, davvero. Sono molto felice, vista la mia frequentazione assidua del Monviso per vari anni, sia a bassa quota che in alta quota, diciamo a tutte le quote possibili. Quindi sì, sono molto contenta di poterne parlare con voi, con il parco, che sicuramente è come se fosse il depositario, da un certo punto di vista, di saperi, di patrimoni, di visioni, insomma. È molto bello, grazie. Grazie a te. Ecco allora che ho condiviso una fotografia che prova proprio il fatto che tu sul Monviso non ti sei limitata a girarci intorno, ecco, per usare, per parafrasare il titolo della nostra rassegna, ma ci sei proprio salita fino alla vetta, per cui chi meglio di te potrà parlare di questo argomento. In introduzione cito ancora, appunto, riallacciandomi un po' a quello che diceva anche il Presidente, l'argomento del 1864, ovvero del nastro rosa, se mi passate soprattutto tu l'inde, questa semplificazione, sul Monviso, ovvero quando salì per la prima volta sulla vetta del nostro R. di Pietra una donna della fattispecie Alessandra Boarelli. La citiamo non soltanto per questioni di livello realistica, alpinistica, ma anche perché tu recentemente hai pubblicato per Fusto Editore di Saluzzo un libro che racconta proprio la storia di Alessandra Boarelli e la sua storia che si intreccia con le imprese alpinistiche di quel periodo e con la sua effettiva conquista del Monviso. A te però chiederei di arrivarci per gradi a questo racconto facendo, come si suol dire solente, il classico passo indietro. Ovvero mi piacerebbe che ci raccontassi qualcosa della storia alpinistica al femminile, di quella che è stata, diciamo, la parte, se c'è naturalmente, la parte precedente a quello che è la data del 1864, quando Alessandra Boarelli conquista il Monviso. Io a livello di introduzione do due riferimenti temporali, perché parlare di alpinismo oggi per noi è naturale, anche parlare di alpinismo al femminile è naturale, ma non è forse tanto chiaro a tutti quando è nato l'alpinismo nella forma moderna che noi conosciamo. Sento un ritorno audio per cui chiedo a chi si è collegato ora di spegnere il microfono, grazie. Allora, si suol dare una data di nascita all'alpinismo moderno che è quella del 1786, quando per la prima volta viene conquistata in forma documentata la lavetta del Monte Bianco. Lì, come spesso si fa, si mette la bandierina della nascita dell'alpinismo moderno. Da lì in avanti la storia è stata scritta da conquiste alpinistiche. Nel 1808 c'è la prima scesa femminile al Monte Bianco ed è da qui, Linda, che ti chiederei di partire, se sei d'accordo. Raccontaci la montagna al femminile. Certo, molto volentieri. Guarda, faccio una premessa. Hai parlato giustamente di 1786 come data che è canonicamente acquisita come inizio dell'alpinismo. In realtà proprio sul Monviso alcune ricerche recenti hanno ipotizzato che un luogotenente francese potesse essere già salito nel 1700, attorno al 1750. Immaginate se effettivamente si fosse accertata precedentemente questa ascesa sarebbe stato ancora da tornare indietro di quasi di perlomeno 30 e più anni per la nascita dell'alpinismo. Però è vero che lo spirito che animò De Saussure e poi Pacquare e Balmà che salirono sul Monte Bianco aveva già qualcosa in più che non era soltanto per un uso tipo militare come eventualmente avrebbe potuto essere nel caso del francese che doveva stilare delle carte della frontiera del crinale del delfinato della separazione tra le due regioni alpine. Sulla questione dell'alpinismo femminile è vero pensate, 1808 questa giovane locandiera di Chamonix pensa che potrebbe essere utile per i suoi affari poter esibire la salita sul Monte Bianco e quindi decide di avventurarsi sulla cima del Monte Bianco dove pare che arrivò trascinata quasi di peso però di fatto esprimeva una lungimiranza e anche un accettare di mettersi in sfida con se stessa non da poco all'epoca perché pensiamo parliamo di più di due secoli fa e quindi lei ci salì tutto sommato a breve distanza dalla prima ma la vera alpinista prima vera alpinista che studiò la spedizione che si preparò per andare in cima al Monte Bianco fu Henriette d'Angeville che arrivò 30 anni dopo la Marie Paradis e cioè nel 1838 Henriette d'Angeville era una contessa francese in realtà anche se viveva a Ginevra era nata proprio negli anni del terrore la sua famiglia nobile era fuggita dalla Francia era riparata in Svizzera e da casa sua vedeva questa cupola scintillante in lontananza la cima del Bianco e quindi si mise si incappricciò di questa possibile avventura e sfidando tutti coloro che dicevano che non ce l'avrebbe mai fatta che addirittura insomma sembravano quasi coalizzati per portare sfortuna alla sua spedizione in realtà lei resistette e pervicacemente con una spedizione grandiosa salì con le sue gambe faticando ovviamente in cima al bianco la coincidenza curiosa è che il 1838 data dell'ascensione di Henriette è la data di nascita di Alessandra Boarelli e così quando mi sono accorta di questa coincidenza ovviamente è stato come uno fantastica diciamo guarda magari era scritto nelle stelle che l'Alessandra Boarelli si appassionasse alla montagna e alle salite di montagna il che non ne ha affatto detto c'è da dire che Alessandra con questo suo tentativo dei primi anni 60 fu effettivamente una delle pioniere perché l'alpinismo femminile inteso come attività svolta con una certa costanza e su gradi di difficoltà già elevati si svilupperà una ventina d'anni più tardi prima di lei c'era ed era anche uscito un bel libro un inglese tale Miss Cole Rosa Cole che aveva pubblicato un libro del suo periplo del Monte Rosa però ad esempio il libro di Gilbert e Churchill sulle Dolomiti che vide la partecipazione anche delle mogli di Gilbert e Churchill nonostante questo non figuri e uscì nel 1864 quindi come potete vedere sono anni in cui l'alpinismo maschile è già annunciato è già nella cosiddetta epoca d'oro che sostanzialmente si chiuderà poi nel 1865 con la salita di Wimper e Carrel su Cervino ma quindi lei è perfettamente in linea con i tempi e in quanto donna considerate tutte le limitazioni da cui il genere femminile era afflitto sicuramente una grande anticipatrice una grande visionaria una pioniera a tutti gli effetti ecco riguardo ad Henriette se non sbaglio l'immagine che stiamo trasmettendo adesso quella sulla sinistra è proprio il suo ritratto all'epoca della conquista del Monte Bianco giusto? giusto e questa era proprio la tenuta con cui lei salì in cima nel libro fa un elenco di tutto quello nel suo libro nel suo diario di Ressi da Sension a tutti gli effetti fa un elenco di tutto quello che si portò e questo vestito se l'era fatto cucire apposta per l'ascensione tra l'altro notate che il questo Ressi scritto da Henriette che ovviamente fu fu preparato da lei all'indomani della dell'ascensione lei cercò di farlo pubblicare era aveva annotato tutto in una serie di quadernetti verdi e nessuno non trovò alcun editore disponibile e finché andò sostanzialmente smarrito e tornò fuori nel negli anni 80 del 900 pensate quindi sono è passato un arco di tempo enorme prima che si sapesse di questa salita a tutti gli effetti storica e come vi dicevo dunque quindi il le donne iniziarono ad andare in montagna con una certa costanza e con affinando man mano le loro capacità cogliendo grandi successi a partire dagli anni 70 80 dell'ottocento c'erano ci sono state veramente delle delle grandi grandi interpreti di questa disciplina donne che stavano in quota che inanellavano inanellavano cime non sempre delle ripetizioni di cime già salite anche cime vergini solo che non scrivevano non scrivevano perché non era le donne non avendo un ruolo sociale nemmeno era contemplato che loro scrivessero quando lo facevano molto spesso avveniva con pseudonimi per esempio tutti noi soprattutto a maggior ragione perché parliamo del Monviso conosciamo il Coolidge no? Bene William Coolidge era il nipote di questa ricca americana che si chiamava Meta diminutivo Meta Brevord che si prese cura del nipote lo portò in Europa gli insegnò ad andare in montagna e molto spesso e tutte molte grandi prime ascensioni le hanno fatte insieme le facevano lei una cagnolina li vediamo li vediamo proprio nell'immagine a fianco alla precedente esattamente vedete la Meta Brevord con la cagnolina Chingel William Coolidge il ragazzo alla sua destra e poi ci sono c'è Christian Almer la loro guida storica e poi un'altra guida da solo a fianco ebbene lei scriveva molto ma pubblicava poi col nome del nipote quindi Henriet d'Angeville a suo modo è stata un'anticipatrice anche in questo perché decise di scrivere lei mentre molte donne non scrissero oppure scrivevano dei diari intimi che non avrebbero mai immaginato di poter pubblicare faccio un esempio perché questa è stata è stata una grande una grande alpinista si chiamava Eleonore Hassenklever era una tedesca sposata con Noll John Noll e fece fece un'attività alpinistica di primo ordine soprattutto sulle Alpi Svizzere e morì fu la prima donna alpinista a morire in montagna morì sotto una slavina ed è sepolta nel cimitero di Zermatt ebbene lei aveva preso delle note aveva tenuto dei diari fu poi grazie al marito che questi diari furono pubblicati non esistono in italiano perlomeno non ancora in italiano però fu lui che li fece pubblicare altrimenti non sapremo nulla poco neanche di lei certo e contemporaneamente in parallelo a questa voce legata alle donne per quanto riguarda lo specifico cioè le imprese alpinistiche c'è purtroppo da registrare anche una sorta di pubblicistica negativa nei confronti delle montagne per il fatto che le donne sono riuscite a scalarle per cui non sono poi così complicate ma io ricordo un trafiletto un articolo della sentinella delle Alpi che probabilmente proprio riguardo a se perfino le donne riescono a salire sulle montagne vuol dire che stiamo parlando di imprese alpinistiche così complicate sì certo anche anche Mammeri disse che una cima prima è impossibile poi è difficile e poi se finisce per essere una tranquilla escursione per signore perde tutta la sua attrattiva diciamo che visto che la storia è ricostellata da questo da questa strisciante opalese così misoginia mi sono ho smesso di di irritarmi o di dispiacermi troppo per questo e ho cercato anche nelle mie ricerche di fare il contrario cioè di valorizzare quello che invece è accaduto e che non ha avuto voce in un modo o nell'altro è stato screditato pensando che fa parte dei tempi e che è come un elastico un po' si va avanti un po' si torna indietro sulla stampa di oggi c'è un articolo di Elsa Fornero ci può piacere o meno Elsa Fornero ma giustamente dice ma come mai nella commissione messa in piedi di economisti messa in piedi per reggere il confronto con l'Europa in questo momento di trattativa sui quattrini di cui l'Italia ha tanto bisogno e deve ottenere non c'è neanche una donna e siamo nel 2020 quindi purtroppo è una una situazione così allora anche per me il cercare di di divulgare ecco tutto quello che invece le donne nel campo che io conosco che è la montagna hanno fatto o stanno facendo mi sembra il modo migliore per testimoni qualcosa che effettivamente esiste c'è esistito nella fotografia precedente le immagini precedenti avevamo visto Lucy Walker per esempio ecco questa questa immagine di gruppo ritrae Lucy Walker che fu la prima donna a salire sul sul cervino nel 1871 beh se pensate che il cervino fu conquistato nel 65 il 71 era il giorno dopo ecco diciamo se in tempi in tempi alpinistici soprattutto con i tempi di allora che non sono il tempo accelerato nostro di oggi in cui tutto è dominato dalla fretta e dalla velocità e Lucy Walker è vero era era cresciuta in una famiglia di alpinisti pensate che da ragazzina andavano andavano mettevano facevano base in un posto ai piedi delle montagne scalavano con i genitori tutta la famiglia il fratello tutto quello che c'era da scalare l'intorno poi si spostavano da un'altra parte e passavano le loro vacanze così e quindi insomma era una donna temprata e molto forte e anche sul Cervino ci fu una 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 lotta tra per per il primato femminile e arrivò prima lei si vede che era destino di quella montagna invece nell'immagine a fianco questa è un'immagine del scattata da Elisabeth Aubrey Leblonde il ghiacciaio dei forni lei fu una una forte alpinista sempre se non ricordo male Elisabeth Leblonde era nata nel 1864 quindi quando proprio Alessandra andò sul buon viso e si era a un certo punto trasferita a vivere a a Semboriz in Engadina e lì divenne talmente brava come alpinista che fu addirittura cooptata nella commissione che esaminava le guide alpine per dare i certificati gli attestati alle guide alpine dell'Engadina c'era una commissione di cui lei era stata chiamata a far parte se pensate che oggi la Anna Torretta che credo tutti noi conosciamo l'unica guida alpina donna della società delle guide alpine di Courmayeur campionessa di arrampicata su ghiaccio insomma un atleta non è non riesce per un boicottaggio subdolo a diventare istruttrice delle guide alpine mi dà l'idea di come di come si allunga la strada forse forse infinita chissà mai sì proprio sul versante delle guide alpine registramo un dato nazionale che è quello di 16 guide alpine donne su un totale di 1.100 e più in tutta Italia per cui questo dato fa una fotografia veramente drammatica di quella irraggiungibile per il momento parità di genere quindi forse è questo il dato che è più preoccupante che fa più riflettere rispetto invece a un articolo di giornale di metà 800 in cui basta il termine ce lo possiamo aspettare che si scriva delle donne in un certo modo ma al giorno d'oggi forse la cosa dovrebbe essere molto diversa come giustamente citavi l'esempio in un altro contesto della Fornero certo certo c'è da dire che il mestiere di guida alpina è un mestiere estremamente faticoso e elogorante no? non possiamo nascondercelo perché uno inizia da giovane nel pieno delle proprie forze del proprio vigore con una passione enorme e poi almeno tutti tutti gli amici miei che fanno le guida alpine a parte che è un mestiere molto spesso costellato anche di infortuni per cui da un lato c'è una oggettiva quindi una oggettiva delle condizioni di fatica e di usura e di stress che da un certo punto di vista è comprensibile che schiere di donne non siano attratte sulla lunga poi sulla lunga durata sulla lunga prospettiva però sicuramente anche un problema culturale se non c'è una un'educazione di un certo tipo pochi saranno quelle che decidono di seguire la propria passione e di buttarsi in questo mondo che è molto affascinante peraltro assolutamente se ti sottolineerei la parola passione e ti chiederei di avvicinarci un po' al racconto di Alessandra perché nel tuo bellissimo libro ripercorre riprende anche alcune lettere che lei scrisse nelle quali lei addirittura parli se stessa come di una persona con la vocazione d'alpinista per cui credo che nel caso di Alessandra la parola passione per la montagna sia tutto fuorché campata per aria per cui vorrei chiederti in questa seconda parte del nostro incontro di ripartire da quella data citata dal presidente prima 1864 e raccontare Alessandra il Monviso e quello che succedeva diciamo contemporaneamente a lei su quelle balze rocciose in quell'estate in quegli anni insomma sì mi sono mi sono chiesta se Alessandra e il marito Emilio Boarelli non si fossero trasferiti da Torino a Verzuolo proprio magari anche su sulle insistenze di Alessandra perché Alessandra crebbe crebbe a Torino e quindi il Monviso per tutti i torinesi è una presenza costante è un'immagine è un come ha scritto Roberto Mantovani nel suo nel suo libro dedicato proprio al Monviso gli inglesi lo definirebbero un landmark no? del paesaggio è proprio caratteristico caratterizzante quindi lei ha passato l'infanzia e la prima giovinezza con questo con questo riferimento e quando poi si sposò con Emilio Boarelli che veniva da Verzuolo entrambi però abitavano a Torino sfruttarono la coincidenza del della città divenuta capitale d'Italia e quindi del grande bisogno che all'epoca che in quegli anni stringeva la capitale riguardo agli alloggi agli appartamenti c'erano deputati senatori che arrivavano da tutta da tutto lo stivale e quindi in città non c'era non c'erano non c'erano case a sufficienza allora loro decisero di lasciare il proprio appartamento torinese di trasferirsi nella casa storica della famiglia boarelli ecco mi sono mi sono immaginata che il peso di Alessandra e il suo desiderio di andare proprio ai piedi a vivere ai piedi di questo monviso che per tutta la sua vita aveva ammirato di lontano abbia giocato un suo ruolo è vero lei lei parla parla della propria vocazione parla del suo amore per la montagna del suo amore per per l'andare in montagna che è qualcosa che hai o non hai e che ti e che in fondo riconosci riconosci subito fin da quando sei piccolo bambino giovane giovanissimo e pensate che il durante il viaggio di nozze che lei ed Emilio fecero una sorta di 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 grand tour no perché andarono in Toscana e si spinsero giù fino a al regno di Napoli perché lei si sposò nel 1856 e quindi l'Italia non era ancora un unita e il viaggio di nozze salì sul Vesuvio e quindi vuol dire che insomma se seguì se decise di seguire questo impulso per una gita sulla cima del Vesuvio doveva essere veramente un una sua un impulso irresistibile no un qualcosa che la portava ad andare sulla cima delle montagne che è qualcosa insomma che chi va in montagna ben conosce e riconosce questo anelito ad andare sempre più in alto arrivare fin su fino sulla cima e forse è proprio questo che la spinta quando dopo un po' di anni che abitava a Verzuolo decise che in fondo perché no perché no lei era una donna libera era una donna libera interiormente una donna colta una una giovane donna perché quando andò sul Monviso aveva 26 anni anche se era già madre di due di due bambine ma aveva perduto la madre quando era ragazzina il padre quando aveva 18 anni era abituata a misurarsi anche con con le sofferenze no del della vita e con la necessità di trovare una propria strada una propria stabilità emotiva si era fatto carico alla morte del padre si era fatto carico degli affari di famiglia no istruita dallo zio che temporaneamente ne fu il tutore dallo zio paterno però lei si fece carico di questi dei beni di famiglia e se ne occupò anche perché il fratello aveva qualche problema di stabilità psicologica diciamo così e quindi tutto gravava sulle sue spalle cosicché immagino che Alessandra poteva mettere insieme una una fermezza una pregnanza umana una sua densità come persona una grande cultura perché nel libro ho voluto riportare l'elenco delle letture che lei faceva naturalmente libri letti in originale per lo più erano libri se non italiani erano per lo più francesi e qualcuno in inglese perché a un certo punto decise che doveva anche imparare l'inglese e quindi grande cultura in questo movimento come accennavi tu Davide questo movimento che si era fatto attorno al Monviso no vi se pensate che nel 1800 il primo a sfiorare la cima del Monviso fu Domenico Ansaldi che era un geometra del genio civile e stiamo parlando degli anni 30 dell'800 1834 poi passarono 20 anni nel 59 fu la volta invece di un inglese iniziò la collezione degli inglesi ci fu prima Forbes che fece un giro poi ci fu John Ball che fu un grande dolomitista in particolare e poi arrivò John Ball nel 60 nel 60 tentò anche Matthews che poi andò in cima l'anno dopo al quale John Ball aveva spedito la sua relazione dettagliata dopo tutte le sue dopo le esplorazioni che aveva fatto e però questa lettera non arrivò in tempo Matthews era già partito nel 60 e quindi non non ci si raccapezzò si perdettero la strada e l'anno la stagione si risolse in un nulla di fatto allora turnò nel 61 nel 61 andò in cima nel 62 venne un secondo inglese Francis Fox Tackett che andò in cima pure lui con il primo italiano che era il portatore un portatore della Valpellice Bartolomeo Peirò che si fece fare anche un attestato giustamente da Tackett il primo piemontese che aveva messo piede sulla cima del viso e nel 63 si era allora intanto intanto l'Italia era diventata un regno unito come era possibile che tutti questi inglesi continuassero ad andare su una cima che era un'icona un simbolo tanto più che la capitale era Torino che il Piemonte era la regione che aveva promosso l'unità d'Italia quindi il 63 fu l'estate in cui si scatenarono tentativi di un sport ci furono ci fu anche tutta una comitiva con 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 Via Lardi e Grimaldi che fecero il giro attorno una parte di questa comitiva cercò di salire e ci provò anche Alessandra Buarelli con uno dei fratelli di San Robert Giacinto di San Robert la guida che aveva soldato era proprio quel Bartolomeo Pero perché insomma aveva tanto di certificazione quindi si faceva affidamento sulla sua esperienza in realtà non si sa come sia andata la storia se se lui si sia preso paura se il tempo come è normale che sia in agosto cambiando all'improvviso abbia creato delle condizioni poi abbia reso impraticabile la salita e fatto sta che dovettero ripiegare una settimana dopo come scendono e Giacinto di San Robert smonta dalla carrozza di Alessandra Buarelli e sale su quella del fratello Paolo di San Robert che aveva preparato tutto per Quintino Sella che con con un deputato calabrese perché con il barracco calabrese che rappresentava l'altra parte d'Italia quindi i due estremi dell'Italia insieme partirono alla volta del del Monviso con due guide Gertù e Bodoino e con il fido si può dire non so ho fatto tutto fare di Paolo Ballada di San Robert che questo abbà che aveva sostanzialmente fatto da tutti tutti i preparativi aveva diciamo era oggi diremmo era stato quasi un responsabile della logistica no di questa di questa salita capo spedizione occulto sì e così andarono in cima andarono in cima a Cesero e a Casa Voli che proprio di fronte alla Casa Boarelli subito dopo la la vittoriosa salita decisero che bisognava a tutti i costi creare un club alpino anche in Italia sull'esempio del glorioso alpine club inglese e così andò che Alessandra da un certo punto di vista fu beffata queste immagini vediamo vediamo al il marito Emilio Boarelli e in uniforme da militare della Marina Clemente Boarelli il figlio di Alessandra che morirà giovanissimo di tifo proprio in nave e al centro sempre Clemente Clemente Boarelli la cosa secondo me eccezionale è che Alessandra non si perse d'animo e volle a tutti i costi ritentare e così andò che nel 1864 si rimise in marcia e questa volta ebbe successo e quindi il suo sogno tra l'altro appunto come vi dicevo aveva già due bambine ma queste bambine furono lasciate ad un'amica e anche perché noi oggi andiamo sul Monviso possiamo farlo in una salita lampo no? andiamo saliamo e scendiamo velocemente all'epoca ci volevano dei giorni trasferimento lungo la Valvaraita si saliva dal vallone delle Forcioline ci si attendava al pianoro delle Forcioline dove oggi c'è il bivacco Boarelli e dopo di che si saliva si ritornava insomma i tempi erano tutti altri e quindi nel 1864 Alessandra coronò questo suo questo suo sogno d'alpinista però poi tornò a fare la vita di sempre ecco a differenza di quelle che ho citato prima che sono pochissime in realtà rispetto alla schiera di donne che hanno frequentato le montagne nella seconda negli ultimi vent'anni dell'ottocento però loro erano tanto erano erano donne che facevano base in un luogo di montagna in una grande stazione generalmente al di là delle Alpi o in Dolomiti e dopodiché facevano delle vere e proprie campagne alpinistiche lei invece se ne tornò tranquillamente a casa queste sono le sue due bambine Luisa e Isabella Isabella è la maggiore Luisa è la più piccolina e ricominciò a fare a fare la vita di sempre pare che fosse una donna attiva fu una benefattrice fu con lei che si si adoperò per l'apertura dell'asilo a Verzuolo però la montagna era il Monviso come se il Monviso racchiudesse veramente un fosse la metafora di tutto a lei è bastato è bastata quell'ascensione per ripagarla degli sforzi fatti e per farle sentire la libertà la soddisfazione di aver di aver si proprio soddisfatto un'ambizione no? perché queste erano delle qualità di cui una donna quasi non doveva parlare all'epoca l'ambizione l'era negata la forza la pervicacia la la fermezza tutte qualità che in una donna anzi quasi spaventavano e lei invece riuscì a racchiuderle a farle vivere e a dare a dare loro uno sbocco in questa salita quindi fu fu qualcosa di estremamente estremamente significativo così come fu significativo il fatto che su di lei si posò una pietra tombale evidentemente i signori dell'epoca avevano percepito la forza del di questa signora di questa nobildonna piemontese torinese e non avevano nessun interesse a parlarne o a dire sì però lei ci ha preceduto di poco ma neanche per cavalleria ecco quando io ho iniziato le mie ricerche per la scrittura del libro pensavo diciamo ma io non so da che parte cominciare perché non esisteva nulla assolutamente nulla su di lei e quindi insomma non so sono sono rimasta estremamente colpita da da tanta capacità autodeterminazione desiderio di esprimersi e di realizzare un sogno da parte di Alessandra ecco tra l'altro nell'immagine che stiamo vedendo adesso c'è il credo l'unico articolo di giornale per la verità poco più che un trafiletto che nel 1864 questa è l'opinione del 25 agosto diede conto di quella di quell'impresa compiuta da da Alessandra che era accompagnata tra l'altro dalla sua damigella Cecilia che aveva poco più che 14 anni se non ricordo male per cui diciamo che l'impresa femminile quella prima volta fu compiuta da da entrambe hai citato Verzuolo o scusami sì volevo volevo spendere una parola soltanto su questa su Cecilia figlia o figlia perché perché di lei non sono riuscita a recuperare della documentazione che mi aiutasse a tracciarne un profilo realistico ho parlato durante le mie ricerche con una sua discendente l'avvocato Elena figlia di Saluzzo la quale in effetti si era anche si rammaricò con me che anche durante le celebrazioni del 2014 per i 150 anni dalla salita non fosse stata sufficientemente valorizzata ma poi ho capito anche perché 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 su di lei proprio non 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 si è nulla sappiamo che era la figlia del notaio figlia un notaio che era di Sanfront però esercitava a Castel Delfino e probabilmente Cecilia fu affidata magari era una ragazza in gamba abituata alla montagna a camminare in montagna e quindi le fu chiesto di accompagnare l'Alessandra Boarelli e di unirsi alla spedizione anche per dare forse un aiuto ad Alessandra però come vi dicevo non non è stato possibile sapere niente di più quindi quel che io ho inserito nel libro di lei è frutto della mia fantasia e anche della volontà di rendere un omaggio benché minimale a questa a questa figura certo certo ecco molto velocemente perché il tempo corre e voglio ancora chiederti una cosa facciamo un omaggio anche a Verzuolo no io l'ho definita una cittadina fatale no per l'alpinismo italiano e la sua storia allora hai raccontato benissimo il tornare di Alessandra al paese di origine del marito e allo stesso modo la prima accordata italiana sul monviso quella di Quintinosella per intenderci fece base a Verzuolo ma di più citavi proprio a Ba in precedenza ecco credo che sia uno di quei casi del destino molto affascinanti un suo discendente Mario è stato per tanti anni il capo sezione del soccorso alpino di Saluzzo che aveva e ha tuttora sede proprio in Verzuolo adesso Mario non c'è più però il soccorso alpino saluzzese continua ad avere sede in Verzuolo proprio a testimoniare questo legame che si concretizzò anche al seguito subito dopo la conquista del monviso da parte di Sella perché proprio in Verzuolo furono messe le basi la prima pietra del club alpino italiano come giustamente dicevi tu vorrei ancora chiederti di fare un passo avanti nel tempo e di venire a parlare dell'alpinismo al femminile se non proprio oggi in questi ultimi anni in questi ultimi decenni so che c'è da 50 anni ormai un'associazione di alpiniste donne di cui tu fai parte e che mi sembra un bel club per portare avanti questo sport che abbiamo capito tutt'altro che solo maschile insomma ed è giusto che venga che emerga anche questa parità di genere in montagna sì senti mi permetto mi prendo un minuto di orologio solo per dire che scorrono queste immagini di Verzuolo anche per me Verzuolo è stata una scoperta perché ormai siamo abituati con queste direttrici stradali che ci portano ad attraversare i luoghi senza avere neanche cognizione di dove siamo e che luoghi stiamo attraversando io penso che sarebbe molto bello se Verzuolo potesse valorizzarsi molto mi è capitato mi è capitato spesso di pensare ma se questo paese fosse solo di là dalla frontiera in Francia sarebbe un gioiello sarebbe tutte le sue tutta la parte antica la villa sarebbe un uno splendore di di no di le colline dietro tra l'altro devo è stato anche grazie al presidente Marengo che ho scoperto alcuni posti dietro nella collina da cui che sono dei belvederi sul Monviso è un posto magnifico che però è buttato lì senza senza alcuna cura con questo arco storico che faceva entrare alla villa che è stato buttato giù da un tir da un camion di passaggio e non è più stato ricostruito ci sono cose che fanno male al cuore sono i posti che sono i luoghi della memoria della nostra storia e che varrebbe la pena ecco proprio lanciarlo come visto che c'è il parco come il paese della culla dell'alpinismo perché va bene saluzzo saluzzo ha la sua storia per zuolo secondo me potrebbe trovare una caratteristica con la quale rilanciarsi chiusa la parentesi dicevi di questa di questa associazione che si chiama Rendezvous Hot Montagne RHM nel 2018 abbiamo festeggiato i 50 anni di questa associazione che fu creata da una baronessa ungherese che faceva la giornalista e che era fuggita dopo la guerra per 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 liberarsi dal dal gioco dei paesi socialisti che aveva insomma in Ungheria l'Ungheria era caduta sotto l'influenza sovietica quindi lei fuggì in Svizzera proprio nel cuore delle Alpi e con il suo fiuto giornalistico trovandosi in mezzo a alle montagne agli alpinisti decise di creare un'associazione che mettesse insieme le alpiniste donne dell'est e dell'ovest e così iniziarono prima era un'associazione molto elitaria c'è solo le più grandi alpiniste come se noi oggi avessimo la Tamara Lungher Nives Meroi non so le donne che hanno scalato quelle che le ragazze che vanno alle Olimpiadi Laura Rogora piuttosto che Federica Mingolla ecco ma negli anni invece con la maggior frequentazione della montagna da parte delle donne si è come potremmo dire democraticizzata non è più l'elite che la forma infatti c'è gente come me che è un alpinista semplice molto semplice ed è interessante perché ci sono 60 80 persone la presidenza turna tra i vari paesi i rappresentanti adesso la presidenza è italiana sono due due italiane che fanno da presidenti prima c'è stata per tanti anni una svizzera poi sarà il turno prima delle francesi delle tedesche e così via e dimostra una vitalità per cui che è la vitalità della base no? quindi non ci sono solo le punte di diamante di chi fa gli 8000 di chi va le Olimpiadi di chi fa la guida alpina ma c'è la frequentazione della montagna da parte di tutte di una grande quantità di donne che hanno anche voglia di ogni tanto di fare montagna solo loro perché andare in montagna tra donne è molto divertente è molto piacevole e innesca dei meccanismi di diciamo di sorellanza di fratellanza molto particolari che non è così usuale vivere e condividere e quindi nei vari raduni sci alpinistici di ghiaccio di roccia e di arrampicata sportiva noi amiamo e ci teniamo a così a preservare questo spazio a farlo vivere quindi diciamo che può essere preso come un simbolo ecco del percorso fatto dalle donne in montagna sicuramente anche se non è sulla ribalta mediatica certo bene adesso il tempo a nostra disposizione sta inesorabilmente scadendo io invito chi volesse farlo a scrivere in chat una domanda o qualche curiosità che passeremo poi a Linda io ti faccio Linda una domanda per chiudere diciamo un po' questo discorso in attesa di eventuali altri stimoli prima dei saluti finali che affideremo naturalmente al presidente Marengo ecco che differenza c'è a livello di motivazioni tra un uomo alpinista e una donna alpinista se ce ne sono naturalmente riesci a noti qualche differenza c'è qualche differente approccio alla montagna oppure no ma secondo me io semplifico ma direi di no perché perché è il medesimo il desiderio di salire di misurarsi con una natura così forte di misurarsi con i propri limiti e di misurare anche i propri punti di forza di trovare un equilibrio fra corpo tra fisico e tra psiche e fisico e godere di queste esperienze così così grandi può essere che ci sia forse una da parte delle donne una minor competitività a tutti i costi però metto un punto di domanda perché non ne sono così convinta quindi direi direi di no andiamo tutti in montagna allo stesso modo con lo stesso piacere per goderci questi questi contesti così così particolari affascinanti e magici direi bene vedo che in chat Claudio vuole dire qualcosa sul parco di Castelfino suppongo il parco dell'epoca di Alessandra ma da quello che ha scritto non è chiaro per cui a questo punto le inviterei ad attivare il microfono e a fare la sua domanda chiaramente appunto pertinente al tema della serata grazie sì grazie io sono legato a Castelfino e volevo così diciamo dare un contributo che la spedizione avvenne con Don Carlo Galliano che era il parroco di Castelfino Castelfino ricordo a tutti sulla storia del Monviso le prime accensioni 61-63 sono partite dalla piatta di Castelfino prima che poi la rotta si rivolgesse alla Valle Po con due alpinisti locali Mainardi e Richard e sicuramente Don Carlo Galliano era già salito in cima al Monviso e quindi ecco che ci fu questa spedizione diciamo competente valida volevo solo aggiungere questo grazie ha fatto benissimo ha fatto benissimo tra l'altro il medico Richard credo che venisse da da Bellino da una delle frazioni di Bellino perché abbiamo trovato insomma delle tracce e comunque sì Don Carlo Galliano poi Galliano fu sicuramente fondamentale credo nella mi sono fatta quest'idea insomma nella riuscita dell'impresa e aggiungerei questo che nelle nelle mie ricerche avevo provato ho provato a trovare qualcosa che lui potesse aver scritto andando addirittura a scartabellare tutta nell'archivio diocesano che c'è a San Peire dove è confluita tutta la documentazione della parrocchia di Castel Delfino e io contavo di trovare qualcosa no? dico ma un uomo che appunto era legato al Monviso avrà scritto qualcosa invece no non aveva scritto nulla mi sono immersa in tutte le questioni le diatribe dei parrocchiani ma sul Monviso non lo trovai nemmeno una parola invece ha fatto bene a ricordarlo perché è stato un personaggio fondamentale della salita sì così come trovo opportuna la la segnalazione della storica via di ascesa al Monviso dalla Valle Varaita visto che oggi siamo abituati a partire dalla Valle Po insomma e sappiamo che benevolmente le due valli si contendono un po' la primogenitura o la più facile ascesa al Viso da parte nostra come parco siamo ecumenici perché sono entrambe valli del nostro territorio per cui non facciamo differenza di affetto verso la Varaita o verso la Po vedo che non ci sono altre domande per cui Linda se sei d'accordo cederei la parola al presidente Marengo per una sorta di conclusione di questa serata e poi darei l'appuntamento la settimana prossima per tutti e anche per te se ti fa piacere partecipare in veste di uditrice presidente un suo commento grazie e un ringraziamento particolare a Linda che è sempre un piacere ascoltare è un alpinista magari che non va sui grandi giornali dell'alpinismo ma in realtà è un alpinista di tutto rispetto anche lei mi ricordo che tre anni fa salivo arrancavo sul Monviso e lei scendeva a un certo punto la incontrai ma lei scendeva e tra l'altro era partita della Val Varaita e quindi era partita da Castello tenendo fede quindi più o meno alle rotte alla rotta iniziale ma che dire ringrazio tutti aggiungo questo ecco di Alessandra Guarelli prima mi è scappato Francesca perché in realtà pensavo alla sua buonipote che vive qua a Verzuolo aggiungo questo che nel 2014 proprio nel celebrare nel ricordare l'impresa di Alessandra Guarelli nacque un'idea si sviluppò prese concretezza un'idea che è un progetto che si chiamò Monviso per tutti guardava il mondo della disabilità sostanzialmente ecco noi l'abbiamo detto in positivo se è andata una donna a quei tempi vuol dire che la forza per ascendere per salire sta in tutti può stare in tutti e partì questo progetto che coinvolse molti centri che si occupano di disabilità questo progetto continua tuttora continuerà anche in quest'anno particolare e nel 2014 nell'ambito di questo progetto Monviso per tutti nel ricordare nato proprio dagli stimoli di Alessandra Guarelli salirono e io ebbe anche l'onore di essere un accompagnatore due non vedenti in cima al Monviso e riteniamo che sia anche in quel caso la prima salita non una donna che salirono sul Monviso due non vedenti un bel frutto anche attuale di sei anni fa dell'impresa di Alessandra Guarelli chiudo lì se non ci sono altre cose saluto tutti e rimando anch'io e invito anch'io a mercoledì prossimo ad ascoltare Mara Calvini che ci parlerà invece di pipistrelli mammiferi animali interessanti molto interessanti grazie vi ringrazio davvero grazie molte a te Linda ricordiamo appunto il tuo libro Nina devi tornare al viso Nina è Alessandra Boarelli con il nomignolo di famiglia ed è appunto la storia di colei che per prima riuscì a salire sul Monviso edito da Fusta editore di Saluzzo grazie di averci raccontato una parte della storia di Alessandra il resto come il suo dire lo si potrà approfondire leggendo le pagine del libro l'appuntamento è appunto per mercoledì prossimo con Mara Calvini come diceva il Presidente parleremo di pipistrelli una tematica diciamo molto di attualità in questo momento e mentre vi saluto faccio scorrere le immagini di un video promozionale del Parco del Monviso in cui ci si rifà un pochettino gli occhi guardando quello che è la natura del nostro territorio grazie a tutti quanti per aver partecipato questa sera appuntamento mercoledì prossimo buona serata e grazie ancora grazie a tutti